Diminuisco del 20% senza recuperare Faccio il... Ho detto 20 ripetizioni Le tolgo di nuovo 20... Che cos'è lo stripping? Non è lo sfogliarello Ma dobbiamo eseguire praticamente Un numero di ripetizioni ad esaurimento Recupero... Non recupero di nuovo, baffa di... Recupero... Non recupero... Non devo recuperare Ok Eseguo proprio del 20% E faccio di nuovo altre 10 ripetizioni Quindi Farò un po' di intagno Farò un po' di intagno Ad esaurimento Recupero niente Non recupero niente perché ho sbagliato Diminuisco di nuovo arrivando ad esaurimento Diminuisco di nuovo del 20% il carico E arrivo di nuovo ad esaurimento Si fanno intenzialmente 3 o 4 serie di allenamento Si esegue lo stesso... Si esegue L'esercizio per lo stesso gruppo muscolare Gli esercizi per lo stesso gruppo muscolare Ciao ragazzi Oggi parliamo di prestancaggio Ma mai a... Ciao ragazzi Ciao ragazzi Oggi parliamo... La tecnica delle super solo prevede parlare lentissimamente E allenarti molto lentamente Ma anche mentre lo fai devi parlare molto lentamente Farò un po' di tagli Proprio parliamo di...